Alberto è andato tutto liscio. Quindi è un maschietto? Una bella femminuccia! Ma stacca. Oddio, chi è? Giulia, devi andare a letto tuo. No, io io starei sempre col mio papà. Papà? Che c'è? Mi devi accompagnare al saggio. Rigore! Un gran rigore per suonare così bene in Brahms. Mamma, guarda, ho fatto il piercing. Robertone è stato un grande. Storgio alla fine l'ha fatto. Con chi l'ha fatto? Robertone. Manco Robertino, Robertone! Ahia, porca puttana! Adesso mi vuole l'accia, 10 euro. Devo andare in bagno. Sto facendo un TikTok. È suo naturale allarme. Ma che ci rubano il violoncello? Ma magari uno sciame di stelle cadrà sulla terra. Realizzano desideri. Basta figlie femmine! Amore. Un altro maschio. Come un altro maschio? Cristiano, Giorgio, Giulio, che cosa suono? Mettiamo un po' di musica? Mettiamo Brahms. Né un calciatore Brahms. Ti raccomando, divertiti. Sono dei bambacioni, si mettono sempre nei casini. Non ti azzardare a dormire il bacetto da me che a scuola. Lo sai, no! Ma tu lo sai chi è? È Lara, la moglie del tuo capo. Ma lo si è matto a Corboto. Ma tu ti ha rotto le palle. Stai migliorando. Davvero? No. Non è che lei lo picchia. Ma è lui che picchia me. Imbecille. 10 euro. Uno sgancia 10 euro se gli scappa la parolaccia. Ho capito. Togli le borfotte! Ma come, Tara, papà? Ma si chiama Thor? C'ha pure il martello. Togli le borfotte! Grazie per la visione!